Ultimamente mi viene chiesto che eyeliner uso su Instagram, mi viene chiesto, perché secondo me sono migliorata molto a mettermi l'eyeliner, ma soprattutto ho imparato a mettermelo per esaltare il mio tipo di occhio, soprattutto il mio viso. È un momento di altissima concentrazione. Ciao, ciao, grazie di essere qui, 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 con me oggi. Sì, oggi sono molto contenta perché faccio un format che mi piace tantissimo, e cioè il mi trucco con voi, e cercherò anche un pochino di truccare voi, perché no? Lo farò in modo lento, super rilassante, perché a me truccarmi rilassa molto, è un momento proprio per me, e in cui mi prendo cura di me stessa. Cominciamo subito mettendo le mollette nei capelli, quindi spostando un pochino i capelli. Vi faccio vedere queste mollettine super, super carine, a forma di grappola di ciliegia, sono bellissime. Mi piace molto anche il colore, è quasi trasparente. E vado con una zocca, che ho messo malissimo, quindi vi facciamo. Ok. Molto bene. Oggi andiamo a fare un trucco che mi faccio veramente tutti i giorni, quindi non è assolutamente un make-up tutorial. E' un momento per rilassarci insieme. Mi sono già fatta la skin care, come vedete anche super luminosa. E andiamo. Partiamo con il primo prodottino. Questo è un gel per sopracciglia. Sebbene anche i miei occhi è di we make-up. Mi ritrovo molto bene. E vado. Vado a vissare un po' di sopracciglia anche a te, aspetta. Ok. Anche l'altra. Benissimo, mi piacciono bene, appuntate in alto. E belle, belle volte. Adesso, correttore. Non andrò a mettere il fondotinta, ma solo appunto il correttore. Sto finendo questi di Maybelline. Non mi ritrovo molto bene. E uso il colore 02 e il colore, se cancellato, in un altro più chiaro. Non mi riesco a trovare il colore. Vado ad aprirli l'elicottero. L'aereo, non so che cosa, non manca mai, giustamente. Pienso che a questo punto siano aerei che vengono da Bologna. Cioè che partono da Bologna, non lo saprei. Comunque, andiamo a mettere poco poco prodotto. Ok, andiamo a sfumare prima su quest'occhio. Sperano di aver attaccato la colorazione. Mi sembra di sì. Ok. Andiamo sull'altro. Mamma che suoni. Ah, è questa cosa che molto spesso faccio con le mani Non guardate me Non lo so, penso che i migliori attrezzi per il trucco siano sempre le mani O almeno il metromolto viene così Vado a controllare un attimo sul cellulare con la fotocamera Come l'ho messo? Ok, sembra a posto anche il colore Vado giusto a correggermi anche qui Un pochino, un pochissimo Poi li vado a mettere un po' anche te Spero non sia troppo scuro Non lo so, non vedo bene Ok, vado un pochino anche a correggerti Le occhiaie comunque Le macchie scure sotto gli occhi Perché bene o male Abbiamo tutti Chi più chi meno Negli anni usando Dei correttori Scusate, dei contorni occhi validi Mi si sono attenuate tantissimo Non avete idea di quanto mi si siano Attenuate negli anni Sì, veramente incredibile Ok Ok, ok Bene Adesso vado con il blush Vado con Un blush In crema Che è Non finito Di più C'è rimasto Niente Guardate qua Ma io amo questo colore E non ho Non l'ho ancora buttato Ma Ho troppi prodotti a casa Per effettivamente Comprarne un altro Altrimenti Lo ricomparerei subito Ve l'ho già fatto vedere Quello di Baby's Ikkaia Il colore 02 Lo si Meraviglioso Prodotto Secondo me Validissimo 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 E questo un po' si abbina Il backing card Quindi Ma sono Stupendo Guardiamo cosa riesco a tirare fuori Sempre con le mani Non vi scandalizzate Io Cerco di tirare fuori Il più prodotto possibile E poi lo metto un attimo Sulla pelle Potendo la distribuire Ok Ripeto Io non mi sto vedendo Quindi Sto facendo Qualche danno Cosa Non posso sapere Diamo sull'altro Anche la mia tecnica Insomma Prima o poi però Mi piacerebbe fare molto Un corso di Autotrucco Quindi un corso proprio per Riuscirsi a Valorizzare Al meglio Quindi non imparare a truccare gli altri Ma imparare a truccare bene Se stessi Ma è molto bello Un bel regalo da farsi Allora Guardiamo A me sembrano simili le guance Voi cosa dite? Dopo mi riguardo E guarderò Spero Siano simili Ne metto un pochino Anche a te Ok Scusate il noso rosso Ma ho appena Sto amodito Ok Ancora un po' Sai che sta bene Anche a te Questo colore? Ti sta molto molto bene? Benissimo Ok Andiamo a chiuderlo Benissimo Adesso Prendiamo questo Questo è un ombretto Luminosissimo Che è di un oro Però freddo Non so bene Non so se Sia corretto Dire Oro freddo Però Li vado O mettono un po' Sopra gli occhi Ecco Ancora quantità Sto andando un po' A casa E vado a metterla qui Questo è Forse l'unico step Che non faccio Tutti tutti i giorni Nella mia routine Di trucco Ma che oggi mi va di fare Che comunque Mi piace molto Semplicemente a volte Mi scordo Però lo trovo Veramente molto carino È di una marca Che si chiama Gitti Di cui ho anche Gitti Che sono Tipo Gitti Migliori Che abbiamo mai provato E nulla Ok Si chiama Visionist 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 Non so Allora Adesso Prima di me Mettere il mascara Andiamo a fare un lavoro Di ultra Mega precisione Con L'eyeliner E la matita Ultimamente Mi viene chiesto Tutti i giorni Che eyeliner Uso Su Instagram Mi viene chiesto Perché secondo me Sono migliorata molto Mettermi l'eyeliner Ma soprattutto Ho imparato a Mettermelo Per esaltare Cioè in modo Che saliti bene Il mio tipo Di occhio Soprattutto E il mio viso E questo va Danto la differenza Devo dire Più che Come lo metti E in realtà Io uso Un eyeliner Della NYX Che se volete Vi lascio il link Giù in descrizione Con cui mi sono trovata Benissimo Ma è terminato È praticamente secco Quindi Visto che non volevo Starci mezz'ora Fateci sottisare Invece Una matita nera Di Mesauda E un pennellino Questo è di We Makeup E Ha Così Di quelli sottili Sottili Per sopracciglia Per fare la liga Dell'eyeliner Dall'altra parte Ha anche Il pettinino Per le sopracciglia Che fa un suono Stupendo Ragazzi Per prima cosa Vado a E Spurcare il pennello Con la matita nera E poi Scusatemi Devo specchiare Anche È un momento Di altissima Concentrazione Vado A Segnare Una riga Adesso Mi ricordo Che tipo qui La riga Dove essere Leggermente Più bassa Rispetto a Quest'occhio Perché Quest'occhio È leggermente Più alto Rispetto a Questo Anche il sopracciglio Mi ricordo Comunque E E quindi E quindi Vado a fare Due righe Leggermente Diverse A livello Di angolazione E un occhio Nell'altro Unque va a tirare Una riga Che va a finire Cioè se dovesse Essere tirata Fino al sopracciglio Andrebbe a finire Verso la fine Del sopracciglio Quindi così E la faccio E la faccio Anche abbastanza Lunga Devo dire Non è Non è Lemosina Sulla Sulla lunghezza Poi vado Fra le Ciglia Faccio Una linea Sottilissima Ok E poi Adesso Nel momento Più delicato Di tutti Vado ancora A sporcare Il pennello E Vado a Unire Questa linea All'occhio Ma non parto Da in fondo In modo Che comunque Io lasci Faccio modo Di lasciare Diciamo Una parte Linea Sottile Per fare La punta E vado Un pochino Più in basso E unisco Pian piano E poi Colore Adesso Vado Anche D'occhio Chiuso Ovviamente Io Faccio Così Non sarà Sicuramente In modo Giusto Ma Ecco Ho già finito Comunque Non sarà Sicuramente Il modo Giusto Dicevo Ma È il mio Metodo Con cui Mi trovo Bene E faccio La stessa Cosa Con L'eyeliner C'è Uguale Adesso Visto che Ve l'ho Mostrato Lo faccio Un attimo Concentrato Off camera E poi Torno Con Entrambi Gli occhi Fatti Vuoi Che lo Metta Anche Te D'accordo Allora Vado ancora Sporcare Anche lo vado a fare leggermente più corto perché secondo me ti sta meglio E vado Vado a unire e anche sulle ciglia E dall'altra parte vado sulle ciglia Faccio La righetta E unisco Ok Benissimo Si sta molto bene E mi piace molto come è venuto il mio Sono molto soddisfatta Adesso direi che decisamente ora Del Mascara Come mascara Sto utilizzando Due mascare In realtà Io sono un primer E un mascara Della stessa linea Fatti per essere utilizzati insieme La linea è High Sky Questa qui Ce la possiamo fare Ok 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 Sì, non è vero. Il primer è quello bianco, quindi vado prima con questo e vado con un occhio alla volta, anche qui mi devo andare a specchiare e vado con molta, molta, molta precisione. Il mascara penso che in questo momento della mia vita sia il prodotto make-up alico, non fare mai meno. Se dovessi scegliere un prodotto da mettere sempre, solo uno sarebbe il mascara, direi. Perché sui miei occhi fa davvero tanto, tanto differenza di aprire, tantissimo. Ora non riuscirò a mettermelo benissimo, come se avessi uno specchio classico, ma... Ok? Vado anche sotto. Ok. Le tipiche facce da mascara. Va bene. E appunto, come vi ho detto, faccio un occhio alla volta. Quindi adesso vado con il mascara vera e propria. A passarci sopra. Ok. Ok. As always mi dispiace dell'aereo, l'elicottero, che sia aereo che sta passando, ne passano veramente tanti. Ma come sentite appunto è una cosa molto frequente. Ok. Bene. Allora, mi è venuto meglio altre volte, però. Giusto, non riesco neanche troppo a gestirlo così. Quindi ok, questo è il risultato. E vedete com'è? Adesso con l'eyeliner non si nota neanche così bene, ma... Guardate la differenza tra gli occhi. Mi li apre tantissimo. Per me proprio... Il mascara è un prodotto... cui non rinuncio mai. Cioè penso di mettermelo tutti i giorni. anche solo il mascara. Ok. Mettiamo anche l'altro occhio. Ma visto che non riesco a parlare molto, non voglio annoiarvi. Lo faccio off camera. Allora... Eccomi tornata. Adesso ne metto un pochino anche... Un pochino anche a te. Se vado a mettere anche il mascara dopo... Il primer... Un pochino anche al passo. Un pochino anche a te. Un pochino anche a te. E quindi lo faccio off camera as floor. Un pochino anche a te. Un pochino anche a te. Bene. Adesso ultimissimo step. E il rossetto. Vado a usare questo di Cass, che aveva un burro cacao da una parte e il rossetto dall'altra. Il burro cacao è onestamente validissimo e ne ho abusato. Letteralmente l'ho consumata tantissimo, lo savo anche in un'abbinata al rossetto, infatti è venito prima. Ne è rimasto un po' sulle labbra. A idratarle un pochino avrebbe stata cosa buona e giusta idratarle all'inizio del make-up, ma chi sono io per ricordarle? Bene. Ok. Allora vado con questo, scusatemi, questa tinta labbra rosa. È un rosa un po' antico, un rosa freddo. Mi piace moltissimo, uso di me. E anche con questo vado un attimo a specchiarmi, perché sennò non sono sicura di mettermelo male. Comunque mi piace tanto questo prodotto, anche perché, lo sapete, ve l'ho detto mille volte, i prodotti due in uno, o che hanno tante funzioni, mi piacciono da molti. E questa rosa è leggermente piaciuta delle mie labbra, però non fa snaturarle tanto. E vado a riempirle anche sopra. Benissimo. Fatto. Cerco di sbordare, ma proprio pochissimo, quasi niente. Poco a poco. E ho fatto. Metto un pochino anche a te. Vediamo come ti sta. Molto bene. Io vi ringrazio. Aspettate. Ultima cosa, sciogli i capelli. Io vi ringrazio di essere arrivati, arrivati fin qui. Spero che questo video sia stato rilassante anche per voi, tanto quanto è stato veramente per me girarlo. Io, adoro veramente tanto, spero che questi video mi è rilassata mattina, da mattina. E spero anche che il look finale vi piaccia. Penso andrò solo un pochino adesso a rimettere il blush, perché ne ho messo poco. Però... E io penso proprio, penso proprio, penso proprio, penso proprio, penso proprio, ma penso proprio, 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 proprio. si è aggiunta l'ora di abbassare le luci e augurarvi, augurarvi, augurarci augurarvi una buona buona notte buona buona notte good night buona notte buona notte buona notte buona noita buona noita e dei gioiei, gioiei rêve e un ombra di giornate Buonanotte i miei piccoli pappicini al pistacchio Buonanotte Cali e spera